l'ultimo ad entrare nelle gabbie 4-0-7 Iampuga, cavalli che sono partiti all'interno Iampuga per un attimo in vantaggio a largo si presenta Seven Cats che alla fine assume l'iniziativa ancora più all'esterno è Mr. Sergio quindi speak in di Oriental Star Iampuga questi sono i primi 5 con Mr. Sergio che al passaggio sul traguardo tira dritto in avanti e a sua volta assume l'iniziativa nei confronti di Seven Cats poi speak in di Oriental Star quindi Iampuga, Silver Wash, Barbareschi in coda falli che sono sulla prima piegata posizioni che si sono stabilizzate con Mr. Sergio Lider nei confronti di speak in di che ha a largo Seven Cats terza corsia per Oriental Star in quinta posizione all'interno è Iampuga con a largo Silver Wash in coda ad un paio di lunghezze segue Barbareschi gruppetto abbastanza compatto quando siamo a 800 dalla conclusione gruppo aperto sempre da Mr. Sergio a ridosso speak in di Seven Cats Oriental Star sempre in linea quindi Iampuga con a largo Silver Wash e Barbareschi che si ricongiunge con il gruppetto si va verso l'ingresso in addirittura con Mr. Sergio che si presenta ancora in vantaggio a largo si presenta Oriental Star a ridosso c'è Spichindi per corsia interna e va Iampuga poi anche a contatto Seven Cats con Mr. Sergio che si mantiene in vantaggio nei confronti di Seven Cats di Barbareschi che finisce forte in mezzo alla pista Mr. Sergio che si mantiene in vantaggio nei confronti di Barbareschi che finisce bene Mr. Sergio fin sul palo precede Barbareschi Oriental Star e Iampuga l'outsider Mr. Sergio vince la sesta del pomeriggio Barbareschi al secondo andiamo comunque a vedere il replay al terzo Oriental Star otto al primo sei al secondo e tre al terzo questo è l'ordine di arrivo ufficioso per quanto riguarda questa sesta corsa del pomeriggio vince Mr. Sergio i colori sono quelli di Stefano Biadi il training della Picchi Galoppo Giorgio Perovic in sella 12.33 la quota